Signore e signori ci siamo su Outlast Incangibile Incangibile Ma il gioco è qua signori Adjust gamma By moving the slider up in the cart Is very visible Quindi io direi Così dai Giocando su PC ragazzi Sulla play Non ho adesso del gatto Ma potrei in teoria perchè c'è quel Shared video Quindi si può salvare Ma sticarsi Lo facevo su PC Sai perchè faccio su PC? Perchè mi pare Ragazzi l'italiano non c'è Nemmeno su PC ne erano lì Eh Non c'è poca Perchè mi sembra giusto Oddio Oddio Come succede? No 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 Ah Stanno Stanno precipitando in aeroplano ragazzi A quanto parte Sì sì no a quanto parte C'è ovvio Ma c'è C'è proprio si sente Dunque Ci abbiamo fatto di un argomento Che Non spai di quelle persone Che ti ha oltre a channel E lo due E E Comunque Io la demo L'ho guardata Molto lontano Quella era una demo beta Ma Ostio Ma adesso me lo voglio dire tutto in prima persona Ehm Non ho fatto abbastanza di youtuber già E E Non voglio guardare perchè altrimenti Non è c'è quella adrenalina No Voglio godermela tutta ragazzi Il gioco esce del 2017 O è L'ho appena molto come Resident Evil Che sarà un gran Un gran Gioco Telecamera meno male aggiornata Quindi questa un pochino costa di più Vabbè Ehm Oddio La C'è una C'è una Cazzo si chiama C'è Allora 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 Noi siamo cascati da qua Con S Si Attiva To zoom Scroll Up and down Ok Ehm Allora ragazzi Texture Molto migliorato Molto più realistico Ehm Oddio Madonna Che Hanno fatto veramente un capolavoro Anche nel giocamere molto Allora 50 MP Megabyte al secondo 1990 1960 Flame Ehm Sì Ma il gioco è 930 Troverò ragazzi Promettervi A prendere a 60 Quando Prendo il gioco Perché secondo me Deve essere una figata assurta Mamma mia ma che posto è questo C'è C'è È Ciao Hello charge to run ok perfetto calma zio porca puttana come siete male ragazzi oh dio 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 cristo cristo aiutami oddio là c'è l'animale c'è un uccello lì c'è come cazzo si chiama questo in italiana non lo so guarda c'è una croce c'è una croce ehm madonna madonna ragazzi ciao oddio quando ha proprio l'umore senti quanto si fa ma non bussare sto oddio 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 una batteria molto molto fatto bene da molto bene va per il momento è chiuso boh molto molto bene mi piace per il momento autos molto migliorato anche se prima era fantastico eh allora prima aprile piano e vediamo no allora ecco oh mmm cos'era oddio dei calaveri proprio oddio 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 delle bambole oddio 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 calma eh calmatemi eh ragazzi c'è mamma mia se no che non viene qualcuno alle spalle qui cristo con calma ragazzi e va bene qua andiamo oddio 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 con calma con calma con calma oddio oddio oh la qua", qua beh bella� spaziando un po' la zona qua mamma mia che cos'è? space to hide oh che figata e poi? per te bello bello interessante ma perchè bussi stonze? buonsiamola una batteria bene bene bello con calma non succede niente a letto non si può sottoletto più va bene ok ottimo oddio che cazzo è la? allora foto dei bambini qua mamma mia ancora le bambole oddio però ovunque to open windows press oh porca puttana dio 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 ecco sta porta qua ma qua è la prima tizia ragazzi eh basta sta porta ma un attimo un attimo non voglio solamente vedere qui no? no non c'è un cazzo qua non c'era assolutamente niente non c'era qua pensavo che ok 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 Allora, satanas inimicantei, questo significa, non lo so, non lo so, non lo so, dove andiamo? Ma cos'è sto posto, ragazzi, va? Che posto, che ragazza di posto è questo? Oddio, quanti bambini sono qua? No, ma sono dei bambini o sono dei... Sono dei bambini, ragazzi, secondo me sono veri qua, non mi sbaglio, no, sono veri, eh. Oddio, una sella. Una sella. Ma che posto è questo? Ma che posto è questo? Non buttare dentro, no, no. Oddio, cos'è una lingua, è una lingua. Sì, è una lingua. Ah, madre. Oddio. Dove cazzo siamo? Non si... Buoh. Siamo in... Buoh. In quel cosa lì, per le respirazioni, dai. Sì. Mamma mia. Sì. No, mi ribadino. Sì. Ah! Oh. Oddio. Oddio. Oh, oddio. Sì. Oddio. Oddio. ma che cazzo dire? proprio il cambiamento di... cambiamento di scene incoraggibile proprio boh vabbè vabbè dai c'è tante preghiere c'è andiamo un po' cd e quelle cassette maker per il computer vabbè vabbè cd vabbè vabbè noo da cd 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 ma che cazzo era quello? dai scherzi però no dai scherzi però no eh pappa americano no 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 no, porca puttana, oh, porca puttana, guarda, non vengi per il culo, è proprio quando, no, dai, c'è, ma che cazzo è, c'è, no, dai, oh, porca puttana, guarda, 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 guarda no dai c'è però basta dai forza puttana i jumpscare ragazzi ci faranno portare in ospedale oh no oh no oh putti o so pio si non vi ho il aspetto a te così così è nè nè Sì, ma che la scuola è? C'è io visto questa cosa? Io visto questa cosa Non bella niente, è proprio Quattro? aspetta eh ma ma non è questo il posto la dono più di pai ha fatto quelle riprese ricordate quel che seguite più di pai molto simile questo posto la con i zombie oddio che cazzo era sta roba che oddio oddio mamma mia no dove cazzo siamo finiti oddio oddio via 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 oddio mi stavano cercando eh ragazzi ci stanno ci stanno il tra Oltre a te Oltre a te Ah! 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 Ma so' vogliamo andare, ragazzi. Qua, qua, qua ragazzi, vai! Vai, vai, vai! Via, 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 via! Ma so' voglia. Ah! 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 Dio cos'è? Dio Dio Mamma mia Dio 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 non è un capolavoro ragazzi e sarà molto molto un po' da scoprire molto di questa sola demo il gioco c'è nel mio 17 spero che vi sia piaciuto adesso come non mi piace iscriviti noi ci vediamo prossimo